Ragazzi, tutti pronti per spiaggia, picnic o gite fuori porta con questa favolosa insalata di pasta fredda. Per prima cosa tagliamo i pomodorini a metà e li disponiamo su una teglia. Quindi li condiamo con olio, sale, zucchero, scorza d'arancia e di limone e li cuociamo in forno a 100 gradi per circa 2 ore. Tagliamo la melanzana da linea e la condiamo con abbondante olio e sale. Disponiamo anch'essa su una teglia con qualche fogliolina di timo e la cuociamo per circa 30 minuti a 200 gradi. Nel frattempo scottiamo lo spada tagliato a dadini in una padella con olio, sale e pepe. Quindi condiamo i nostri strozza preti precedentemente cotti in acqua bollente con pomodorini, melanzane, spada, olio, origano e foglie di rucola. Per finire delle golosissime scaglie di grana padano che daranno un gusto unico alla vostra insalata. È una vera delizia! E voi cosa mangiate quando andate in spiaggia? Scrivetelo nei commenti!